Pokémon Vittime Mythical Collection Guardiamocela, presentiamocela, gustiamocela Cubers! È arrivata l'ottana Mythical Collection, quella di settembre Arriverà l'autunno, ma prima è arrivata la mitica di Victine! Ormai siamo, Luca, siamo per completare la collezione Qui ne vedo sette Sono sette perché la prima di Mio è introvabile Non mi ha andruto neanche una, come si fa, come si può? Quella è veramente mitica Questa è esatto, è super mitica, super mitica E eccolo qua, Victine! Come sempre abbiamo il nostro Depilance, lo vediamo sempre Perché, vabbè, giustamente l'appuntamento continua Continua, pardon Mio, salve, G-Rucky, Darkrai, Man of the Shaming, Arceus, Victine A ottobre arriverà anche il Deo A novembre Genesect e a december Meloetta E le Red and Blue Collection che già abbiamo visto Sono già uscite tutte Molto bene, molto bene Molto bene E voilà! Abbiamo le nostre due bustine di Generation Abbiamo Blastoise and... no, pardon Vina Sour and Blastoise La Pins, la Spilla di Victini, molto bella, mi piace Victini, esatto, molto bella, ma molto fatta bene E la carta di Victini C'è anche la carta per il gioco online De Drey La Promo Blackstar XY numero 117 È molto bella, molto full artica E gustiamoci però anche le due bustine Che giustamente di Generation Abbiamo Venazzato e Blastoise Vediamo in questa Victini Quale sarà la bustina Che ci regalerà le migliori carte Partiamo con Venusaur In ordine analfabetico Attenzione! E abbiamo Caterpie, Mew Ride, Rai, Horn, Ponita L'Isla Ponita Come cantava Madonna Cliffable, Waller Radiant Collection number 27 Rapidash, carta rara Shrewish Sempre per Radiant Collection Cliffable Evo Soda Evo Soda O acquatonica, a scelta Vediamo se Blastoise è in serbo Qualcosa di migliore Qualcosa di X Vediamo se dalla busta di Blastoise Tiriamo fuori qualcosa di bello Caterpie Clayfairy Punita La Isla Punita ancora Magikarp Raichu Reversico E attenzione C'è Fluet Per Radiant Collection E poi Snorlax Carta rara Wobbuffet Sempre Radiant Collection Pokemon Santa Lady E Redkart Cartelino rosso E voilà Vola, 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 vola Bene, bene, bene Che dire, che dire, che dire Due buste tranquille Non abbiamo sbustato carte X Però vai, pazienza Può capitare E che dire, che dire, che dire Mancano ancora Due Mythical A chiudere la collezione Mythical Ma 3 Mythical Mi suggerisce Luca Giusto? Bravo 3 Mythical Sorry Tubers Che adeo Genesetto Che me lo è Tare Vedremo nei prossimi mesi C'è anche qualche altra edizione speciale Per Delicata Generation Che sta per arrivare Cos'è? Ma no Ci sono un paio di edizioni speciali Tra cui Un E un Comunque 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 Tubers Con Kimania Regia Chi mi ha fatto signo del trailer Perché mi ero dimenticato una collezione E boss All'unboxing E presentazione E tutto Ci vediamo alla prossima E Ciao Goodbye